Eccoci entrati in studio per questa seconda parte della Domenica in Famiglia. Tante cose, oggi tante belle cose. Saluto i nostri ospiti, ritroviamo insomma volti già noti come la dottoressa Enrica Pansiera che è tornata a trovarci con la sua Ginevra. E' ormai imparato anche tutti i nomignoli di questi bei cuccioli. Golden Retriever. Ginevra è un Golden Retriever. Inizio sono esperto, ma anch'io in razze canine. Nel caso oggi parliamo di Labrador e Golden Retriever, anche con la nostra dottoressa Pansiera. Perché sono cugini appunto, giusto? Dico bene. Si diversificano innanzitutto per la localizzazione geografica di nascita. Penisola del Labrador è Gran Bretagna, quindi hanno due nascite lontane. E perché sono cugini allora? Ma morfologicamente sono molto simili e hanno dei caratteri molto gentili, molto educati, molto docili che si prestano molto bene a effettuare una serie di lavori in cui è richiesta pazienza. Quando loro devono lavorare con bambini o anziani, devono avere un controllo del proprio movimento e una pazienza, direi, che è introvabile in certe razze un po' più ipercinetiche. Per esempio, se avessimo qua un Border Collie o un Terrier, non sarebbe così tranquillo il nostro pomeriggio. O se dovessimo lavorare con dei bambini problematici, un Terrier trasmetterebbe ai bambini molto nervosismo, molto movimento. Quindi queste sono razze più tranquille, più pacifiche, diciamo, con l'essere umano. Sì, robuste, gentili e trasmettono molta serenità, molta tranquillità. Qui abbiamo poi due fasce d'età completamente diverse, perché abbiamo un soggetto adulto e una cucciola. Quindi tutto quello che lei purtroppo in questo istante sta facendo è normale, perché si sta annoiando. Sono quei bambini, ogni cosa che trovano lo vogliono masticare, lo vogliono rumpere. Poi adesso in questo istante lei si sta annoiando parecchio, per cui ha terminato di sgranocchiare il suo legnetto e purtroppo... Sgranocchi al tappeto. Purtroppo però a volte capita che questi... Ecco, abbiamo una sorpresa per lei, no? Abbiamo anche le immagini, hai visto che roba? Ci siamo organizzati, eh? Questi bei cucciolini, guarda che roba. Una cucciolata in presenza della mamma, che è fondamentale, ricordiamo, fino almeno al sessantesimo giorno d'età. Ginevra, per esempio, ha avuto la possibilità di avere sia il padre che la madre durante tutto il periodo in cui è stata in allevamento. La mamma, come vedete, è fondamentale perché insegna ai cuccioli... Ma quanti cuccioli? Anche nove, dieci. Nove, dieci addirittura? Ginevra è la nonna. Ah, pensa. Così tanti. Sì, sono cucciolate numerose, anche perché loro sono cani di taglia medio-grande, per cui hanno queste super ovulazioni e di conseguenza hanno diversi embrioni. Dicevo appunto che la mamma è fondamentale perché insegna ai cuccioli tutta una serie di cose che poi loro sfrutteranno successivamente, anche il controllo degli autocontrolli, che è importantissimo successivamente, quando il cucciolo non sarà più con la mamma, ma vivrà a contatto con una famiglia. Sono animali che... sono cani che hanno bisogno della famiglia. Si annoiano un po' se stanno in famiglie di single. Un po' fredde, diciamo, o di single. Un po' ridotte, diciamo. Eppure, leggevo che le ultime classifiche italiane, nella scelta del cane, è uno tra i cani più scelti. Nonostante ci sia una disgregazione un po' familiare, è un po' il cane, non solo morfologicamente, ma proprio per la gestione. Proprio per la sua pacatezza. Pacatezza, sì. Con i bambini e così via. Ma in altra occasione abbiamo accennato così vagamente anche ad alcune problematiche che possono avere queste razze, no? In età adulta, ho sbaglio? Allora, problematiche intese come patologie ereditarie, purtroppo vanno conosciute, perché non è detto che le abbiano, che le possano sviluppare, ma hanno una certa predisposizione. Quindi bisogna conoscere molto bene l'origine, quando si decide di acquistare un cucciolo di labrador o di golden. Quindi conoscere molto bene l'allevatore, perché sappiamo il tipo di selezione che l'allevatore ha eseguito. Quindi conoscere bene la papà e la mamma, il papà e la mamma, per poter conoscere che tipo di analisi sono state fatte, soprattutto sulla struttura muscolo-legamentosa ortopedica, perché sono animali predisposti, ahimè, per la displasia dei gomiti e delle anche. Displasia che cos'è significa? Specifichiamolo? È una malformazione delle articolazioni. Sostanzialmente la testa del femore alloggia naturalmente in una cavità del bacino che si chiama cavità cebolare, quindi c'è una sorta di incastro. Quando queste due strutture anatomiche sono mal conformate, purtroppo nascono in questo modo, non c'è un movimento corretto, per cui c'è un movimento alterato che predispone allo sviluppo dell'artrosi. Per cui vediamo spesso dei cani di questa mole già a zoppicare a 8-9 mesi. Addirittura a 8-9 mesi? Sì, perché c'è una usura della cartilagine che si usura appunto e questo determina lo sviluppo dei cosiddetti becchi artrosici all'interno della cavità cebolare. Oltre ad essere una patologia dolorosa, a lungo andare è invalidante. Per cui c'è un aspetto genetico, nascono così perché magari i genitori, i nonni portavano già in sé, dentro di sé, un grado. Un po' come l'essere umano, insomma. Esatto, è uguale. Le patologie ortopediche sono esattamente identiche a quelle umane. Quindi non c'è da allarmarsi, diciamo, su questa cosa qua. Bisogna però conoscere. Semplicemente fare una visita in più. Bisogna fare delle indagini sui genitori, quindi esigerle nel momento in cui si acquista un cane di queste razze e poi nei mesi successivi, quando il cucciolo viene portato a casa, viene adottato, ci sono tutta una serie di cose da evitare, come grandi passeggiate, grandi movimenti. Quindi l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale perché si tende a sovralimentarli e il sovraccarico, soprattutto di calcio, può modificare queste strutture anatomiche. Per cui chiedere sempre al veterinario diete appropriate, non esagerare nei movimenti, semplicemente basta non far fare troppo movimento al cane, quindi non troppe scale, non salire improvvisamente in auto, ma accompagnarli dolcemente. E poi ci sono una serie di indagini diagnostiche da fare intorno al quarto mese. Sono delle semplici radiografie del bacino in cui si analizzano le strutture anatomiche. In questo modo, se ci fosse qualche problema, ci sono dei piccoli interventi da poter fare per ridurre il rischio. Quindi prevenzione, perché poi quando si arriva ad avere un cane displasico a un anno che pesa 35-40 kg, è un dispiacere ed è anche molto dispendioso pensare di risolvere questo problema. Quindi è bene prevenire, lei dice, no? Quindi è una visita in più per quanto riguarda queste razze. Esatto, sì. Ci sono anche altre razze predisposte. Questo ci tengo a dire, però non vuol dire che sono tutti displasici. Pastori tedeschi, Terranova, cani di una certa mole. Ecco, quindi può essere insomma una, come dire, patologia di diverse razze, insomma, non soltanto di queste. Sì, no, non è solamente di queste due razze. Io ne ho sentito parlare così, nel mio piccolo soprattutto di queste razze, ma lei dice anche di altre. Altre razze, sì. Pastori tedesco. Terranova, i bovari del Bernese. Un po' anche per il peso che hanno. Eh sì, è fondamentale, perché loro devono crescere molto lentamente nel tempo. Cioè più magri paradossalmente sono, meglio è, perché si spingono meno sull'articolazione del gomito o delle zampe. Lei è un giardino a casa? Assolutamente no, magari. Perché vedo che sta scavando. No, lei scava, fa così proprio perché probabilmente le manca questo, però quando la porto nel giardino, nell'area cani, scava. Si sfoga, ecco. Scava. Bene. Allora, bisogna farli correre ogni tanto i cani o che cosa? Allora. Perché chi li ha in casa? Sono sempre tra quattro mura? Passeggiate più di una volta al giorno, anche tre, che non vuol dire lasciarli liberi tutte le volte, tre volte al giorno nei campi a correre, soprattutto in questa fascia d'età, dove più che altro sono necessarie delle lunghe passeggiate al guinzaglio, perché fanno un movimento controllato e continuo. Assolutamente però vanno portati fuori, anche proprio per il discorso della socializzazione. Bene. Allora, la prossima volta invece ritorniamo sul discorso delle vacanze, no? Che cosa fare in vacanze? Mi raccomando, lanciamo l'appello perché tutti gli anni purtroppo accade, non abbandoniamo i cani per la strada. Assolutamente. Adesso portiamoli al canile, oppure dove, in qualche pensione, insomma. No, abbandoniamoli, anche perché fanno parte della nostra vita. Ormai c'è tutto un ventaglio di possibilità, di opportunità, dove poter lasciare i nostri animali quando si va in vacanza, oppure perché no, portateli in vacanza con voi. Ecco, oppure c'è chi fa assistenza a domicilio. Esatto. Ecco, senza far nomi, insomma. Esatto. C'è chi fa assistenza a domicilio ai cani, perché adesso esistono anche queste forme di attività, quindi, insomma, abbiamo un cane, dobbiamo magari investire qualcosina in più, giustamente, perché non possiamo abbandonare il cane per una settimana, non so dove, o per la strada, peggio ancora. Quindi portiamolo in strutture che curano, che tengono bene i nostri amici. Che se ne occupano. Che se ne occupano. E aggiungerei anche, vista la giornata, i colpi di calore. Quindi attenzione a non lasciare i cani in macchina, sotto il sole, a non portarli a fare il giretto a mezzogiorno, comunque nelle ore più calde, perché sono molto sensibili alla temperatura, perché hanno un meccanismo di dispersione diverso dal nostro. E anche sull'asfalto. Esatto, perché scotta. Loro non avendo le scarpe. Non fare camminare il cane sull'asfalto durante le ore calde. Sì, anche perché c'è un calore, loro sono proprio a contatto con l'asfalto, per cui c'è un duplice calore sopra e sotto. Povero cane. Per cui attenzione, perché è molto pericoloso. Bene, grazie allora alla dottoressa Enrica Pansera per i suoi consigli anche oggi. Grazie a Milena Minuti, appunto, alla scuola di Paco, che magari in altre puntate ci darà qualche piccola lezione per tenere buoni i nostri cani, visto che è anche educatrice e cinofila, giusto? Sì, esatto. Ecco, e qualche consiglio importante, insomma, per vivere bene con questi esseri, dicono sempre appunto, il miglior amico dell'uomo è il cane.